Siamo di nuovo in piazza per l'ennesima volta per la vergogna di questo governo che ha licenziato 24.000 lavoratori forestali. Venerdì scorso ci aveva promesso che dovevamo continuare a lavorare e non c'erano problemi e invece tutti i forestali della provincia di Palermo e di altre 5 province oggi già non lavorano più. E' un disastro per l'ambiente, per il territorio, per il paesaggio, per 24.000 famiglie che non possono più campare. E questo governo ha una grande responsabilità di non avere programmato per tempo che questi lavoratori potessero continuare a campare alle loro famiglie. Oggi saremo in piazza, oggi, domani, dopodomani fino a quando il governo non trova i soldi per mandarci a lavorare e per pagarci anche la giornata di oggi. Perché i lavoratori sono stati assunti, i settantottissi e molti anche centunissi, proprio l'ultimo giorno utile e finiscono il 31 dicembre. Quindi la giornata di oggi già è una giornata di lavoro perso. Questo è inaccettabile, è vergognoso. La gente, i siciliani, sono indignati di come si sta conducendo in Sicilia questo governo e come si stanno trattando migliaia di lavoratori che in questo momento sono mortificati. Noi abbiamo avuto comunicazione già da ieri, la conferma stamattina, che a partire da oggi siamo sospesi a data da destinarsi. Questo per noi è un danno, oltre che economico, anche previdenziale. Perché noi, dovendo fare le giornate entro l'anno, anche una sola giornata che ci viene tolta, per noi è un danno sia nello stipendio che nella disoccupazione agricola. E questa, purtroppo, mi dispiace dirle, è una situazione che noi ci portiamo avanti da più di 30 anni. L'amministrazione regionale ci ha sempre preso in giro, dicendo che non c'erano problemi, che tutto si sarebbe risolto. Noi non ce ne andremo da qua, fin tanto che non avremo una risposta sicura, non per raggiungere altre 4-5 giornate, ma perché ci sia l'impegno concreto di finire l'anno con tutte le giornate senza sospensione che sia di un giorno e di un'ora, perché noi da qua non ce ne andremo. Noi siamo qua in piazza per cercare di ribadire sì al lavoro e non alla sospensione, tenendo conto che comunque questo comparto è da 30 anni, che è precario. Siamo i più antichi precari della regione siciliana e non possiamo stare dietro alle chiacchiere della politica, dietro alle chiacchiere di chi vuole distruggere questo comparto e vorrebbe ridurre la regione siciliana e i suoi abitanti alla fame. Grazie Grazie